Giustizia e informazione di questo ha parlato ai suoi compaesani Antonio Di Pietro, già ministro e magistrato, è rientrato pianta stabile nella sua Montenero, ha chiuso lui la serie di incontri promossi dall'Università delle Tre Età. Sono qua perché sono tornato, sono tornato perché appunto il tempo passa e quando si arriva alla terza età si torna a casa, tutto qua. Sono andato via troppo giovane, non ho vissuto la vita di questo paese ma nel cuore mi è sempre rimasto. Entrando nel vivo dell'argomento Di Pietro ha focalizzato subito l'attenzione sulla regina delle inchieste che ha condotto quando era pubblico ministero, mani pulite. Vi lascerò due documenti, due relazioni, relazioni della Commissione parlamentare, del COPASIR, Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti di terrorismo, due relazioni che raccontano come e perché sono stato fermato. Perché vi racconterò stasera qualcosa su due temi fondamentali, due sconfitte della mia vita. Per me mani pulite non è stata una vittoria, è stata una sconfitta. Perché non l'ho potuta completare. Prima di me quelli che lo volevano portare avanti sono stati addirittura ammazzati. Mi auguro solo che la storia possa essere riscritta però. Adesso stanno discutendo che vogliono rifare una Commissione parlamentare di inchiesta. Io sono pronto ad affrontarlo. Sono pronto ad affrontarlo perché vorrei tanto che restasse nero su bianco la mia versione dei fatti. Non quel che ho sentito raccontare della mia versione dei fatti. Di Pietro ha raccontato particolari, ha conosciuto le aule di tribunale in ogni ruolo. Dipende dall'abito che indossi per capire, ha detto cos'è la giustizia. Non basta avere ragione. Poi il buono e il cattivo tempo dell'informazione, che comunque Di Pietro preferisce libera e plurale. Ha portato con sé diversi libri, donati all'Unitre, una raccolta di atti, sentenze e distratti delle 253 cause che l'hanno visto coinvolto. Sono stato, ha detto, sempre assorto, perentorio anche sulla riforma della giustizia. Fossi io ministro della giustizia, approfitterei del PNRR per raddoppiare il numero degli addetti al sistema giustizia. Fossi io al sistema della giustizia, la prima cosa che farei è quello di moltiplicare e migliorare le carceri italiane. Perché si sta male e si sta stretti. Tre gradi di giudizio. Io credo che, per capirci, un processo c'è primo grado, secondo grado è Cassazione. Due gradi di merito e uno di legittimità. Non finiscono mai.